Sono due i siti interessati dalla presenza di concentrazioni inquinanti di Cheu ma anche Arsenico nel comune di Bucine in provincia di Arezzo che saranno oggetto di una bonifica. La loro presenza è stata rilevata nell'ambito dell'inchiesta fiorentina sulla presenza di questi inquinanti che provengono principalmente dalla lavorazione delle pelli. In provincia di Arezzo si tratta di un cantiere privato in cui sono in costruzione alcune villette, un altro ospita un impianto di frantumazione inerti a cui nel frattempo è stata revocata l'autorizzazione. È stato ribadito che non ci sono contaminazioni nelle acque nei pressi dei siti in cui è stato rintracciato il Cheu. Il sindaco di Bucine Nicola Benini fa sapere che durante questa settimana è previsto un nuovo incontro dei tecnici che si dovranno occupare del percorso di bonifica. A breve quindi dovrebbero essere comunicati tempi e modi della messa in sicurezza dei siti dove sono state trovate anche concentrazioni di arsenico. Gli interventi, spiega il sindaco, saranno coordinati dal gruppo che vede impegnati tecnici della regione toscana, Arpat e Comune.